Quanto è importante ai nostri giorni conoscere e praticare la lingua inglese? Oggi siamo ospiti della Morgan School di Salerno in compagnia dell'insegnante madrelingua Jennifer proprio per promuovere l'apprendimento della lingua inglese e soprattutto per informarvi sulle tipologie dei corsi che è possibile seguire e capire come scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze. Ma si può imparare l'inglese da buoni italiani? È possibile apprenderlo al meglio? Assolutamente sì, è possibile. Con una buona scuola è possibile. Intanto indaghiamo il metodo Morgan School che come potete vedere si propone anche di accogliere lo studente in un ambiente confortevole. Abbiamo anche il tè, la tisana. Io so che voi preparate anche la merenda per i bambini che vengono qui, vero Jennifer? Sì, sì, sì. E quanto è importante un ambiente accogliente English per facilitare l'apprendimento? È molto importante un environment tranquillo ma anche seria per imparare la lingua. Ecco sulla serietà, sull'onestà, qui ci tengono in modo particolare. Per esempio Jennifer come anche le altre insegnanti voi siete proprio abilitate per l'insegnamento a studenti italiani. Quindi ci vuoi parlare un po' del metodo che seguite per i vostri studenti? Generalmente seguiamo i libri. Cominciamo con un placement test per capire il livello, il grado. Per i livelli di studenti, sì, certo. Facciamo gli esercizi. Esercizi, sì, sì. Per una speaking, conversation, grammar, vocabulary, lots of vocabulary. Vedo che c'è anche molta conversazione. Questo è un punto di forza della vostra scuola. Bisogna insegnare anche a conversare, cioè a vivere praticamente poi la lingua inglese. Non solo teoria, ma anche molta pratica. E qui voi come la sperimentate questa pratica? Fanno dialoghi in ogni giorno. Situazioni di ogni giorno che loro devono, a partire da una fotografia, ma anche da video, so, o da musica e da canzoni, devono descrivere. Quindi avete proprio degli strumenti, delle metodologie che aiutano lo studente ad apprendere in modo anche divertente. Sì, assolutamente. Divertente, pratico, come se si fossi appunto calati in un contesto, in un ambiente inglese.